Sono un po' confuso sul Santa Maria perché si stanno prospettando delle forze civiche un po' mischiate con quelle politiche e proprio come diceva adesso Nicola Leone non c'è ancora non si vede ancora qualcosa di funzionale sia di destra sia di sinistra sia di centro quindi stiamo un po' ad aspettare quali sono gli eventi futuri a vedere un po' che cosa maturerà anche dopo la nostra posizione di sfiducia praticamente può aprire con la caduta di Dimuro potrebbe aprire delle nuove alleanze, delle nuove cose che oggi io non so dire perché non lo so oggi parlare oggi è inutile perché non ci sono i presupposti per parlare anche se lo so sta pensando anche se l'occhiata in presentazione che sono le mie leidone molto forti del genere Asilanne